Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio elettorale sulle intenzioni di voto politiche nazionali di EMG proprio del 29 novembre del 2019. Ci sono le intenzioni di voto dei partiti attuali, reali e poi c'è anche il sondaggio su quanti voterebbero un partito delle sardine. Allora vediamo. La Lega è al 32,4%, perde lo 0,2. Il Partito Democratico al 19,7%, perde lo 0,3. Il Movimento 5 Stelle al 16,5%, guadagna lo 0,4%. Fratelli d'Italia al 9,9%, guadagna lo 0,4%. Forza Italia al 7,3%, perde lo 0,4%. Italia Viva di Matteo Renzi al 5,3%, guadagna lo 0,1%. Gli indecisi sono circa il 41%, per l'esattezza 40,9%. Alla domanda fatta da questa agenzia di sondaggi e quanti di voi voterebbero il partito Movimento delle sardine, il 17% degli italiani voterebbe il Movimento delle sardine. Quindi questo partito diventerebbe addirittura il terzo partito italiano tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Assolutamente incredibile per un Movimento che non ha un programma, non ha un vero e proprio leader, non ha sedi, non ha nulla. Solo si sono ritrovati su Facebook e con volantinaggio si sono dati appuntamento in alcune piazze. 17% degli italiani, quasi 2 su 10, voterebbero il Partito delle sardine. Vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito a iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui potete partecipare e a cui potete anche commentare. Siamo anche su Facebook, Tele Italia Notizie, dove potete trovare tutti gli stessi video che ci sono su YouTube e li potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate, dentro e fuori da Facebook e in Internet e fuori da Internet. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi invito a vedere il prossimo video. Grazie e buona giornata. Arrivederci.